Il Brescia vuole sicuramente far bene, è la prima in casa, hanno entusiasmo perché hanno dei giovani di qualità, a me il Brescia ha fatto una buona impressione a Cesena soprattutto nel secondo tempo, quindi ci aspetta una partita sicuramente difficile, però noi vogliamo dare continuità alla prestazione, migliorando sul piano tecnico-tattico e di risultato. Le condizioni a parte Eusebi buone, da valutare anche Troianiello, i dubbi come la scorsa settimana sono un po' a centrocampo e in attacco. Anche per Massimo questa potrebbe essere una stagione importante, ha dimostrato già le sue qualità in passato in Lega Pro, soprattutto poi in Serie A, credo che ha delle qualità e delle prospettive importanti, penso che sia lui che Donnarumma e lo stesso gabionetto come gli altri attaccanti a disposizione possono far bene in questo campionato. Grazie. 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 Grazie.